E' l'ora di mettersi in marcia e camminare tutti insieme, lasciare i tavoli delle istituzioni, ormai l'ovore è morte, ribottare i tavoli dei ricchi bacchetti dalle spalle dei cittadini, sotto messi i sudditi, liberarci dai lacci, dei traficanti del potere, riprendere il libro vivo della Costituzione, e dare camminare alla resistenza contro ogni politica, di saccheccio e di rapida, incontro la verità, pace e giustizia, e devo di abbracciare l'appelino, e devo di abbracciare l'appelino, E' la speculazione e la violenza, non a mia vittoria, e devo di abbracciare l'appelino, e devo di abbracciare l'appelino, e devo di abbracciare l'appelino, e la speculazione e la violenza, e la resistenza non a mia vittoria, e devo di abbracciare l'appelino, e devo di abbracciare l'appelino, e tempo di abbracciare l'appelino, E vive la resistenza, ai crinali libri, Comitato per la tutela del crinal mussolano, E vive la resistenza, Siempre!